L'ex silva che verrà, pensiamo ai prossimi anni, che volenti o nolenti sarà più piccola, più sicura e più moderna, come sintetizza il sindaco Melucci, diventa essenziale un nuovo tipo di rapporto con l'indotto. A tal proposito è bene ricordare che le vecchie gestioni non hanno onorato fatture emesse per lavori effettuati dalle nostre aziende per centinaia di milioni di euro. Oggi Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria è impegnata su questo fronte. A tal proposito si registra una nota stampa congiunta da parte di Snacas Artigiani, Confartigianato Trasporti e Fai Conf Trasporto, si dice, in risposta alle recenti dichiarazioni del commissario di Acciaierie d'Italia sulla necessità di superare l'assistenzialismo, si esprime pieno accordo con questa visione. Crediamo fermamente, dicono le sigle sindacali, che il settore debba puntare su una gestione autonoma e responsabile, senza ricorrere a logiche assistenziali. Ribadiamo però con forza la nostra posizione sul rispetto dei costi minimi della sicurezza, così come definiti dal MIT quale elemento essenziale per la sostenibilità del settore, per la protezione della sicurezza di operatori o utenti e il mantenimento di un servizio di qualità. Sicurezza dunque in primo piano, sempre e comunque. Queste le motivazioni tecniche portate dal sindacato. Il rispetto dei costi minimi della sicurezza garantirebbe la qualità del servizio, impedendo che la concorrenza al ribasso penalizzi gli operatori che investono in manutenzione dei mezzi e formazione dei conducenti, elementi essenziali per la sicurezza. Senza questa misura il rischio è quello di favorire aziende che tagliano sui costi operativi a scapito della sicurezza stradale e della qualità complessiva. Grazie a tutti.